Quest'oggi una via abbastanza difficile, 7-9 il primo parziale, poi nella seconda parte di gara è esplosa, è venuta fuori la vera APU. Sì, sapevamo che sarebbe stato difficile perché Cento è un avversario ostico, un avversario che ti porta a giocare male e in attacco muovono molto bene il pallone quindi ti fanno lavorare parecchio. Oggi il nostro primo tempo non è stato di certo da incorniciare o uno dei migliori dell'anno, però abbiamo reagito bene nel secondo tempo creando tiri più aperti, correndo un po' di più in contropiede e sempre comunque partendo dalla difesa che, come già ripetuto milioni di volte, deve essere il nostro punto di partenza. Nel finale quella tripla, quella del più 9, di fatto ha segnato l'incontro, poi la gara si è messa finalmente in discesa dopo che Cento era rimasta in partita fino a quel momento. Sì, sì, come ho detto prima, ti portano a giocare male, a fare dei tiri forzati perché chiude bene l'aria quindi non ti devi accontentare della prima opzione ma muovendo la palla trovi sempre un tiro migliore. L'avevo detto anche in presentazione, dovevamo gestire le palle perse, penso che oggi non ho visto, l'abbiamo fatto e soprattutto nel secondo tempo abbiamo costruito tiri buoni, infatti la percentuale è salita nel secondo tempo rispetto a che nel primo.